Ciao a tutti ragazzi da TheFaceGame Come vedete GTA Online finalmente funziona Non dire troppo forte che va a finire che si impalla come le ultime 12.000 volte Allora questo è il personaggio creato da... non voglio dire perché veramente è imbarazzante È inguardabile Vai a rapinare dai Allora facciamo intanto come se rapino un negozio Autoricamente il negozio si può rapinare anche con altri membri che stanno in partita Ma secondo me non abbiamo ancora nessun amico online quindi non chiedete se la mettesi su Xbox No, in descrizione c'è la nostra crew di TheFaceGame Ci sono già 220 membri quindi... Quindi rendi conto per non trovarli neanche uno online Quindi 220 cazzi Vado a rubare il... Punta l'arma, punto l'arma Punto l'arma, guardate Cazzo non fa niente Prendi un veicolo Cazzo è morto, sparagli in testa Aspetta aspetta fai perché? Perché devo fare la missione Perché? Eh Bu, prendi un veicolo Preso E adesso? Che dita? Vai da Los Santos Customs Siamo arrivati ecco qua Tiro un'inchierata adesso Ecco Non ci sono più su Praticamente deve anche giustare il portellone lui Quando... Oltre alla tua macchina No, da che Cero ha detto Se lo dobbiamo giustarlo giustiamolo come si deve Ma è ad ammarrare bene la macchina Certo che è la macchina di merda comunque Monta un segnale attore sul tuo veicolo Ogni volta che lo abbandonerai Verrà avvisato sulla mappa Ok, grazie Vediamo se adesso posso entrare No, devi andare in quel cazzo di... Boh, ma magari funziona adesso Si, si funziona Ok, sparo alle bottiglie la cazzo Ascoltammi i soldi Dammi i soldi Bruto stronzo Dammi i soldi Dammi i soldi Dammi i soldi Dammi i soldi figlio di... Che cazzo Ma che cazzo di vuoi? È un negro? È male Bruto stronzo Ma pensa a te Dai prendi quei cazzo di soldi Boh, scappagli hai presi Gli ho presi? Boh, che bastardo Ma perché ha fatto così quello lì? Beh, chiamalo Mona Dai, prendi sta cazzo di macchina Chiamarlo di macchina La mia super macchina ragazzi Guarda come l'ha Ucciso una puttana Ma per me non è morta Ma assicuriamoci che sia morta What's up? Dio, guarda che striscio di sangue Guarda che c'è sta strada qua strana Tutta larga Adesso ti riuscito a questo E vai dritto Vai dritto Bravo che ce l'hai fatto Quanti soldi hai preso a proposito? Ah, ho preso un po' Guarda che salto Guarda che salto Guarda lì Vai Vai Ok, adesso possiamo andare al city Flassi Press bla 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 E c'è vado un altro giocatore invece Scusa ma per questa cazzo Finisco questa cazzo di missione Finisco questa cazzo di missione? Ma posso togliere questa macchina Oh, ha la macchina di spatta Cioè no, adesso scendi Scendi e vedi dentro questa cazzo di veicolo Scendi per favore Certo è che tu l'hai assicurata Guarda che balla È aerodinamico Si, prendi un altro palo normalmente Vuoi scendere un attimo? No, patà Ma ragazzi, comunque prima che abbiamo urlato Guarda com'è la ruota Prima che abbiamo urlato per fare la rapina Ci sono due modi O gli punti la pistola e spari ai cosi dietro Cioè non Hai un po' di buchi di proiettile Comunque Si ma non è un problema Oppure gli urli dal microfono delle altre Ma non c'è nessuno Ma ho lasciato la macchina così Ma come? Poco bardo a mettere in top questo Vabbè comunque si È arrivato lì eh Sono stupefatto Ah vedete è tornato Ecco ecco Uno Uno e due Eccoli lì Inseguili Vai 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 Prendili con questa macchina di merda Vai L'inculo BAM Si ma dovresti capire a che pro stai facendo tutto questo Non lo so Ma io quanto Vorrei avere una mini gun cazzo Per tirare gli giù Ma perché? Perché si Voglio gli sparo Stai muovo Vai 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 Ahahah Pronto pastor Prova a gulargli la macchina Vediamo un po' che macchina È un po' distrutta sta macchina Ah non puoi No che peccato Eh non puoi Non puoi Se non hai una bomba non puoi fare niente Si che c'è motivo Tu tu in questo gioco per fare le missioni Dici no io ho uccido quello lì per un determinato motivo Ma ci sono i pali Taylor Guarda che Non li schivo guarda eh Eccola I pali li ha schivati ma Non è colpa mia se c'è un muro Questi muri che vengono all'improvviso contro di me Ecco 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 Cos'è questo? 2.8 Last standing L'attività può essere attivata solo a piedi Scendi Comunque sono tutti a livelli bassi Sono tutti quanti a pari di te Sono tutti ugualmente inferiori Stai tranquillo che li spacco Sparo solo che non abbiano preso un'arma Perché è questo il simbolo lì in parte da te Perché sono l'unico che sta parlando Potete iniziare per favore grazie Ecco Questa è la nostra squadra Visualizza la tua scommessa Ma io spunto Mille dollari Gest di vittoria La tua arma iniziale è la pistola Qui sta a colpi L'ho già fatto Pronto a giocare Dai muovi Manca sotto il bullone in parte che devi muoversi Eccolo lì Siamo in 3 contro 3 ragazzi Guarda la mia squadra Io sono il capo squadra che sono davanti No sei solo sfigato della squadra Sei quello che lo prendi No no Lui ha puntato tutte le nostre in mutare Oh e anche dalla donna Ed è preoccupante questo Allora vediamo un po' Vedi ho la pistola Vedi quella tipa dietro Si dà un cartone Guarda che è la tua amica quella lì Guarda che cazzo è sta roba Non lo so Quando stai sbagliando l'attività di squadra Allora andiamo un po' Dove sono gli amici I amici sono segnati in blu In rosso Ok cosa sono I blu cosa sono Qua è un giubato antiproiettile Là c'è un giubato antiproiettile Sarebbe bene prenderlo I tuoi amici sono Io andrei sulla pistola Su le armi prima Ecco Mi sa che sto andando proprio Sei un po' l'obbriaco No andiamo di qua Oh mio dio Dai loro come cazzo ti muovi Vado di qua e prendo il giubato antiproiettile Vedi che c'è un giubato antiproiettile Signato in blu lì sulla mappa Si C'è anche una pistola in parte Eh va bene Andiamo lì con calma Adesso arriva tanto gli nemici sono Perché sono rosso Probabilmente perché sta attaccando una tua amica No perché sta correndo Ah no perché sta correndo troppo Sta correndo troppo Non corre Ma dove cazzo è? Guarda sopra Che palle Che stronzi Vai a sparare a quelli stronzi Prendi la macchina Comunque saranno a piedi Matteo Entra nella macchina e da lì dentro Ok Che è trovato anche un Mustang Bella idea Bella idea Bella idea Bella idea Adesso Ragazzi gli spacco il culo Si gira qui Si gira qua E subito dopo destra Si gira qua Ah no son dentro No no di qua Sono dentro di qua Dentro di qua Vai vai Cazzo cazzo Vai terrali Cazzo fai Oh no Scendi e fai esplodere la roba gigante Gigantesca di benzina C'è una roba gigantesca di benzina Ma dove sono? Di là Ah sei morto Ma mi ha fatto uccidermi subito Ti hai dato smerdato Ti ha freddato Mi ha freddato ragazzi Mi hanno freddato Guarda se non tocca bene Guarda cosa sta facendo Ma perché era questa qui e qua Durante una ultima di squadra dopo essere morto Potrei salvare gli altri giocatori Noi non abbiamo pensato di andare qua sopra Guarda una stronzetta Ti ho fatto il culo Ah figo Puoi anche mettere il filtro Angolatura Guarda che figo Ma è rimasto sotto lei? Sì Sono uno contro uno Dai vinci cazzo Dai che ti porti a casa mille dollari C'è uno contro uno giusto? Sì Uno è sopra però Non capisco Dai vai a ucciderlo però Ecco che esce Esce Sta uscendo Esce tra lo scoperto Guarda Speriamo che non cada Oh dove vai? Ah non vede poveretta Guarda che è un poveretto Ma lei Boh Vabbè Io dico che Sto guardando Dope Guarda che sta salendo sopra il tetto Stavanzetta Eh vediamo se è vero Vediamo Guarda che la aspetta Guarda che è proprio una troia Guarda che è proprio una troia Guarda la sta aspettando Guardala Cambia visuale Scheda giocatore Girati che voglio vedere se sta salendo Eh non si vede Eccola 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 Ah vedi che si stanno aspettando Guardali 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 Oh mio dio Dai dai sparagli 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 Dai dai vinci Noo Buttati giù Buttati Guarda davvero Eh Ha paura? Sparagli Ma scazza Noo T2G ha vinto Vincitore Ha vinto? Vincitore Perché vincitore? Abbiamo vinto Ehi Sì 740 Sì abbiamo vinto Eh vedi Fortuna che c'era quell'altra Tutto grazie a te Guarda E davanti Tutti in merito nostro Tu sei un per uno Non lo so cosa stai facendo Ho avuto un brutto gesto Comunque fighissima questa modalità Una specie di Deathmatch squadre Sì Tu sei Stato smerdato Ho capito Stato smerdato Cazzo È la prima volta che gioco Quella di merda Pazzesca Epica Va bene dai Direi di salutarci Vabbè Intanto ho visto che Funziona già appena appena online Quindi ragazzi Il prossimo video Facciamo un'altra modalità Ciao a tutti E al prossimo video di GTA Online Ciao